Conducevano una doppia vita i due fratelli nisseni a cui la direzione investigativa antimafia ha sequestrato un milione di beni. Nella vita pubblica mantenevano un basso profilo, una vita normale come tante altre persone senza dare nell'occhio e invece dietro una finta normalità avevano messo in piedi una intensa attività delinquenziale con spiccata indole criminale. Tra le loro amicizie e frequentazioni abituali c'erano pregiudicati vicini a Cosa Nostra. L'attività di ambedue gli uomini dura da anni e nel tempo. Sono stati oggetto di indagini per traffico di sostanze stupefacenti, per usura, truffa, falso, ricettazione e riciclaggio. Uno di loro era già stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il sequestro da un milione di euro riguarda l'intero capitale sociale e i capitali sociali di due ditte individuali e un SRL uninominale nel settore della vendita di auto e della cura della persona. Sequestrate anche le quote societarie di tre aziende che operano nel settore di giochi e scommesse, due fabbricati, tre auto, una moto. Posti sotto sequestro anche i conti correnti bancari e postali intestati a loro e anche a quelli a nome dei loro familiari. Il provvedimento segue una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale avanzata dal direttore della DIA. L'attività ha lo scopo di localizzare i patrimoni illeciti collegabili alle organizzazioni mafiose e a persone vicine alla mafia che conducono un tenore di vita sproporzionato rispetto ai beni posseduti.